ciao oggi prepariamo insieme un mio cavallo di battaglia il vitel non è se avete capito bene allora mettete in una ciotola i ceci già cotti e scolati poi il succo di rimone i capperi io uso quelli sotto sale ma dissalateli leggermente poi aggiungete un po di origano l'olio extravergine d'oliva e la senape trovate ovviamente tutti gli ingredienti nel dettaglio nella caption aggiungete anche un po di acqua frullate finemente il tutto fino a ottenere una salsa distribuitela su fettine di seitan sottili sottili poi aggiungete i capperi ho utilizzato i cucunci buoni di qualità e aggiungete una spolveratina di origano beh io so già che questa ricetta vi conquisterà perché è una ricetta gustosa e sana che mi piace mi fa bene se vi piace l'idea mettete un cuoricino condividetela ciao un bacione e alla prossima